Ehi, sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Sono molto felice di mostrarvi questo video perché... quest'anno al Comic-Con, a differenza di tutti gli altri Comic-Con che ho fatto in passato, anche quando non ero Pazzox, quando andavo lì soltanto perché ero un cosplayer e quindi amo fare cosplay, e in questi anni ho sempre fatto appunto il narratore, questa edizione del Comic-Con 2019 è stata fantastico. Tantissimi fan, tantissimo divertimento, ho trovato il bombarolo lucente, finalmente ho trovato il bombarolo, ma che cosa magnifica! Ho trovato soprattutto tantissimi fan, ho passato un'intera giornata insieme a Wizard Joe, che è una persona simpaticissima, umile soprattutto, molto disponibile, quindi ringrazio la bella giornata che ci ha fatto passare a me, a Soy the King, quel venerdì che stava per piovere, stava succedendo in il finimondo, e tanti di voi mi hanno inviato tante fanart, che cerco di farle vedere tutte, spero che si vedano per Coppa della Luce, quindi spero, stupende, veramente stupende, che poi ce ne sono altre, non sono mai capace io ad aprire le cose, quindi perdonatemi, ce ne sono delle altre, sono sotto, con tanto di messaggi che ho letto proprio di persona a queste carissime persone, non sono, non sono capaci a mettere, ok, ce ne sono tanti, tanti altri, e no, no, è volato via uno, mamma mia, quanti erano, e niente, mi cade tutto, vi ringrazio veramente tantissimo, io vi lascio al vlog, buon divertimento, e soprattutto non vedo l'ora di vedervi tutti quanti anche nelle prossime fiere, che cercherò, che cercherò di andare anche oltre Roma e Napoli, devo soltanto un po' organizzarmi, buona visione, e ricordatevi di supportare Pazox come creatore, giusto per ricordare. Comincio adesso senza parlare, non ci siamo, siamo al comico, primo giorno, dopo un'ora di coda, l'abbiamo fatta, due euro quasi, oggi un'ora, meglio, un'ora, se tutto questa gente, il giovedì, quando non vorrebbe esserci nessuno, in teoria, però oggi è festa, quindi, siamo fregati a soli, ma come? Come fanno in Mortal Kombat un bravo a fare, beh sì, è passato una bellissima persona, quando un video ha, fa certo, è un po', raccomandato, evitare, 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 è vero, mettere, è vero, è vero, è vero, è vero, la vuoi? costa solo un milione ah ok vabbè dai te la regalo tra qualche mese la prendiamo dai sì sono qua in un gamer a caso una persona power no che fortuna non c'è niente come stai? benissimo giro un po' di caldo si vede no puoi fare un picchio wizard zone allora aspetta diventa vero stai registrando? si vai è ok ragazzi ci fanno mille persone ci fanno tutte le figanze non vedo l'ora sono andato a proto ben durato e ieri? si ci stavano i capelli rosa non mi hanno messo il visore mi piace tutto avventurato questo è un po' di caldo qua c'è un cicavallo pure non ci trova più pinnato e nemmeno per questo lo metto si è sempre il tipo di prima ma come va? benissimo benissimo passano una bella giornata insieme a wizard wizard non lele ma non lele ma non lele ma non lele è un po' di qualità un po' di qualità ok adesso wizard si sta per mangiare il panino che c'ha fame non è sicuro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.